Siamo alla Piugel di Minervio, provincia di Bologna, sede ufficiale della Federazione Internazionale pasticceria, gelateria, cioccolateria. Abbiamo realizzato due giorni di corso inerenti sulla chimica e mercologia degli alimenti legato ad un concetto di produzione di pasticceria mignon. In questi due giorni abbiamo trattato le diverse materie prime, come si comportano, come si struttura un dolce, quindi a 360 gradi come anche bisogna costruire un dolce. Abbiamo visto che la cosa fondamentale appunto quando andiamo a miscelare dei grassi bisogna avere una perfetta emulsione dei grassi. Abbiamo anche parlato dell'acqua libera, della micro cristallizzazione dell'acqua negli alimenti e quindi siamo giunti a capire appunto quelle che sono le diverse sfaccettature della pasticceria, le diverse ricettazioni e dietro ad ogni ricettazione veramente c'è un mondo, un mondo non solo fatto di ricette e di ingredienti ma anche un mondo che si modifica e questa appunto è la chimica e la mercologia e questi sono appunto i corsi che organizziamo come federazione. In questi due giorni abbiamo realizzato delle diverse tipologie di ganache, delle diverse frole con diverse strutture più o meno croccanti, i pan di spagna ad esempio al pistacchio a quale abbiamo aggiunto una piccola curiosità della pasta al pistacchio e della panna in un pan di spagna per avere proprio maggior morbidezza e minor senso anche nella fase di degustazione di una secchezza al palato. E questo è fondamentale, sono principi veramente importanti quando si va a degustare un dolce. Chiaramente questo è stato abbinato anche a delle gelatine, prettamente gelatine che lavorano anche sull'acidità. Ricordo che l'acidità dà anche un senso di pulizia al palato, quindi costruire un dolce non è solo un discorso di ricetta, un discorso di chimica ma anche di degustazione e un discorso anche di dare la giusta proporzione e il giusto spessore a delle creme, a dei pan di spagna. Faccio un piccolo esempio, se un pan di spagna ha uno spessore troppo grosso succede che in degustazione dà fastidio. E allora tutto questo chiaramente sono degli approfondimenti che facciamo come federazione presso la sede ufficiale a Minervio della Piugel e ringraziamo appunto per l'ospitalità e ringraziamo proprio per dare la possibilità di crescere insieme a un gruppo di pasticceri e insieme appunto alla federazione. Grazie.